Nell'ambito delle celebrazioni legate all'ottantasettesimo anniversario della colata lavica del 1928 che distrusse Mascali, la frazione di Sant'Antonino risparmiata all'epoca ha ringraziato il santo patrono, il servizio di Angela Di Francisca. Per il terzo anno consecutivo la comunità religiosa di Sant'Antonino di Mascali, nell'ottantasettesimo anniversario dello scampato pericolo dal fuoco del vulcano Etna, che nel 1928 distrusse interamente Mascali, ha ringraziato il suo celeste patrono Sant'Antonio di Padova. Ieri dopo una cerimonia religiosa ufficiata da padre Salvatore Garozzo nella chiesetta di Gesù e Maria, alla presenza del sindaco di Mascali Luigi Messina, del comandante dei carabinieri Nunzio Mammino e del comandante della polizia municipale di Mascali Salvatore Pariti, padre Daniele Raciti, parroco della frazione mascalese, ha portato in processione le reliquie del santo sul fronte lavico. Qui ha ripercorsi i momenti che hanno preceduto l'eruzione lasciando in leso un gruppo di casette del quartiere di Sant'Antonino e la chiesetta. Nell'occasione padre Raciti ha invitato i presenti a visitare la mostra permanente dell'eruzione dell'Etna del 1928, allestita nel salone parrocchiale, augurandosi che in sinergia con l'amministrazione comunale mascalese, la frazione di Sant'Antonino possa rientrare in un ampio percorso turistico e culturale che ne valorizzi le molteplici peculiarità storiche. Padre Raciti infine si è detto contento della rimodulazione del progetto comunale, tendente alla salvaguardia e alla valorizzazione della piazzetta della frazione.